L'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui è l'articolo 844 del Codice Civile, comporta nella liquidazione del danno da immissioni l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto viene in considerazione unicamente l'illicità del fatto generatore del danno a recato terzi. La fattispecie rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni, nello specifico per quanto concerne il danno alla salute, danno non patrimoniale risarcibile. Grazie a tutti.